ciao amici del back and raft di recente oltre a vedere qualche anime e qualche fumetto leggere qualche fumetto in questo periodo sto recuperando ignosano per dire bellissimo ho visto qualche serie tv o meglio io ho sempre visto tante serie tv non tantissime però forse più serie tv che manga ho letto la preferita forse prison break ma dirne una sola è impossibile ho adorato sherlock è bellissimo sherlock e vorrei un'altra stagione ho adorato breaking bad ma ancora di più better col solo onestamente perché bob odenkirk è fenomenale ma il personaggio introdotto nell'ultima stagione bellissimo vikings vikings quarta quinta stagione ha iniziato un po colare ma la sesta e ultima stagione spettacolare poi da quando ho scoperto che chietti il flat nose è edge del wrestling del vwe mi sono innamorato poi le varie serie netflix che ormai spopolano ovunque come sex education ultima stagione molto carina eric se ne ammerda stanger things umbrella academy che muoce la stessa terza stagione a breve non è uscito il trailer credo pure lucifer che è uscita anch'essa l'ultima stagione mi è piaciuto da morire lucifer io lo seguo dall'inizio da quando era in onda su fox online e lo vedi in altri modi e poi ora dalla quarta stagione è andato su netflix e mi è piaciuto sempre di più a dirla tutta però io ho iniziato a vedere serie tv alla tele vabbè con glee e vampire diaris sono state le prime tv che ho visto che mi hanno fatto scoprire che si poteva andare online a cercare gli episodi di varie serie tv quando ancora netflix prime e company non esistevano e quindi le prime serie tv che ho approcciato sono appunto quelle da 24 episodi come lost lost io l'ho visto per la prima volta quest'anno sono un pirna è bellissimo lost comunque sia io ho sempre visto serie tv della cw ovvero arrow flash supergirl legends of tomorrow tutte droppate prima o poi tranne arrow che l'ho finito che finito l'anno scorso tipo ok e super natural super natural o super natura come volete voi credo sia una delle mie serie preferite davvero è durata 15 anni io ho iniziato a seguirla quando c'era la quarta stagione quindi bene o male per 11 anni mi sono portato dietro super natural ma adesso tolto tutte queste serie bellissime di cui si parla sempre bellissime a me sono piaciute ditemi voi oggi voglio dirvi 10 serie tv che ritengo se ne parli troppo poco sono effettivamente serie tv sconosciute quindi 10 consigli che vi do non sono in ordine di preferenza bene o male sono casuali forse le ultime tre che vi dico sono quelle proprio che dovete vedervi secondo me il resto ecco quindi fatemi sapere se quelle che ho elencato poco fa vi siano piaciute quelle che elencherò ora probabilmente vi piaceranno se avete gli stessi gusti delle serie nominate da me precedentemente quindi direi andiamo con l'elenco la prima serie di cui voglio parlare è l'assassino di gianni versace che è la seconda stagione di american crime story che è una storia se quindi non vedi vedere le altre stagioni ok di cosa parla l'assassino di gianni versace per mano di andrew cunanan andrew cunanan è interpretato da darren chris che per chi ha visto glee era uno dei personaggi principali in glee e questo mi ha attratto a vedere la serie poi vabbè gianni versace fu un grandissimo silista italiano quindi ero anche curioso di conoscerlo un po meglio e tuttora sono sorella donatella ha spaccato mo la fashion week non so un cazzo però leggo guardo qualche post fede scracazzate di gianni che interpretato da edgar ramirez è identico fidanzato tra l'altro e ricky martin quindi fantastico parte subito con l'omicidio di gianni da parte di andrew e vediamo tutto il processo in questi dieci episodi di andrew come se la passerà dopo aver ucciso gianni e noi lo vediamo appunto dal suo punto di vista e quindi lui sembra buono non sembra un originale perché tutte le persone che stanno attorno parlano bene di lui anche noi spettatori entriamo in una concezione che lui non è il killer anche se lo sappiamo benissimo che il killer a parte che è una storia vera quindi lo sappiamo già però riusciamo a entrare nella testa delle persone che hanno vissuto questa esperienza che non potevano mai credere che quel ragazzo fosse il killer di gianni anche perché erano intimi in passato e quindi pian pianino riusciamo a capire i moventi le motivazioni del killer e le sue paure quello che lo blocca per andare avanti fino a una conclusione che vedrete no è una serie abbastanza lenta di certo non è una serie action che sono nove episodi abbastanza lunghi quindi deve proprio interessarvi il caso o ma provateci ecco ora passiamo all'unica serie super eroistica di questa lista ovvero d'un patrol anche se i personaggi non sono proprio dei super eroi anzi è più distante di quanto voi possiate immaginare da una serie basata su dei personaggi della gc comics no abbiamo come protagonisti dei disadattati che hanno dei poteri che rovinano la loro vita per esempio c'è una ragazza con 64 personalità ci sta un uomo radioattivo che deve per forza vendarsi per evitare di far male agli altri è un mostro c'è la donna che ogni volta che si senti in ansia sempre diventa un blob si scompone praticamente sono dei sfigati no più c'è anche questo personaggio qua interpretato da brandon fraser quello della mummia che interpreta robot man seguito un incidente il suo cervello viene trapiantati in questo robot e lui è un robot e quindi si sente anche lui una merda perché alla testa pensa ma non può provare niente è un robot quindi loro vivono questa loro vita da falsi supereroi contro le disgrazie e a vedere loro come come sarà passano effettivamente come cercano di andare avanti in seguito a questi traumi che hanno subito in seguito degli incidenti è una serie molto bizzarra non è per tutti molte persone a cui ne ho parlato o mi è piaciuta tanto come me ho fatto schifo perché è molto strana vabbè datele una chance fidatevi terza serie che vi consiglio è stile umoristico la the office quello vero quello britannico con ricky gervais non quello americano che comunque piacevole è la serie tv it crowd questa serie fa proprio spaccare dalle risate sono due nerd informatici e una segretaria che lavorano in questo ufficio di tecnici informatici dove dovranno aiutare i vari clienti a nelle più disperate cose come succede a scuola chiami il tecnico per accendere e spegnere la cosa un altro personaggio iconico che c'è in questa serie il vampiro che lavora in una stanza a fianco nel buio perché è spaventoso e non si sa che cosa faccia da questa serie è tratta la famosa gif che sicuramente avrete visto del tipo che si butta dal palazzo in seguito a una riunione che ora mostro ora passiamo la carrellata di tre serie prime upload la prima è una serie molto recente uscita per ora solo una stagione vediamo se continua è ambientata nel 2033 dove le persone quando muoiono la loro coscienza viene salvata in un artisc e inviata all upload che è un paradiso virtuale dove praticamente io muoio la mia memoria viene inviata l'upload e ci sono dei lavoratori che lavorano nei vari uffici in base alla azienda a cui tu scegli di salvare la tua coscienza ovviamente più sei ricco più c'è un paradiso migliore e ci sono questi operatori come potremmo essere noi che interagiscono con i morti per cercare di rendere il loro paradiso più bello possibile dietro la morte del protagonista interpretato da robbie amel che è il cugino meno figo di steven amel indagheremo la sua morte perché è misteriosa lui non sa come è morto e quindi ci sono dei segreti dietro questa serie ve la consiglio in italiano perché è doppiato il protagonista da maurizio merluzzo quindi tocca vederlo in italiano futureman è un'altra serie ambientata nel futuro però è una serie molto più comica completa di tre stagioni sempre su prime il protagonista è interpretato da josh hutcherson il peter di hunger games e il personaggio da lui interpretato è josh futureman e il suo unico obiettivo è finire questo gioco che nessuno ha mai completato e quando finalmente ci riesce arrivano dal futuro i due protagonisti del videogioco ovvero tiger e wolf che dicono che lui è il salvatore lì dovrà salvare il futuro e il gioco era un test per trovare l'unica persona capace di poterli aiutare è una serie molto molto divertente con molta azione e molti momenti what the fuck tra l'altro nella serie c'è anche set rogan che è famosissimo è anche il produttore good omens invece a differenza delle altre è una serie magari un po più conosciuta però ne ho sentito parlare davvero poco sono solo sei episodi e la consiglio sempre perché ne vale la pena sei episodi te la guardi subito anche se non ti è piaciuta non hai perso troppo tempo di cosa parla good omens intatto è tratta da una storia di neil gaiman famosissimo per sandman american goza e tante altre opere i protagonisti sono l'angelo asi raphael interpretato da michael sheen e il demone crowley interpretato da david tenant uno dei dottori più belli di tutto i due angeli demoni dovranno allearsi per evitare l'apocalisse causata dalla venuta dell'anticristo quindi cosa fanno per evitare l'apocalisse cercano di tenere sotto controllo il bambino nella crescita che sarà l'anticristo peccato che tengono d'occhio il bambino sbagliato arriviamo alla settima settimo consiglio di questa lista che è la causa di questo video perché le serie tv che vi consiglierò dopo questa sono quelle che io consiglio sempre vorrei che molte persone vedessero ma questa è la serie che mi ha fatto venire voglia di scrivere questo video e registrarlo adesso perché è una serie appena uscita una serie appena uscita di netflix è squid game ormai ne stamparanno tanti quando l'ho vista io in qualche giorno fa non ne parlava nessuno comunque sia una serie coreana sud coreana è un survival molto simile come come si la delice in borderland che una serie giapponese però non è trattata un fumetto una serie originale in teoria di cosa parla squid game giun è il protagonista è un uomo sulla quarantina un fallito che pieno di debiti la moglie l'ha lasciato la bambina è stata portata via e un giorno incontra questo signore in treno in metro dove lo invita a partecipare a questo gioco dove potrà vincere tanti soldi in breve tempo si ritrova su quest'isola insieme ad altri 455 giocatori tutti pieni di debiti quindi tutti nella sua stessa situazione con un monte premi di più o meno 30 milioni di euro non è così tanto però bisogna vedere il valore di questi di questi soldi in corea del sud e ogni giocatore vale 100 mila won quindi quando muore un giocatore in monte prima mente di 100 mila won fino ad arrivare a 46 mila quindi se i giocatori muoiono non è un survival game tipo il blu lock di cui sto parlando spesso recentemente dove uno viene eliminato semplicemente no no tu muori quindi tutte queste persone 456 persone partecipano a questo gioco per ottenere questi denaro e poter ripagare i loro debiti vivere una bella vita perché i soldi non sono tutto comunque per farlo moriranno e protagonisti si ritroveranno ad affrontare le loro paure perché non possono tirarsi indietro perché se lo fanno comunque muoiono non possono smettere di giocare non arrivare alla fine ormai sono lì è una serie tv comunque molto cruda è una cosa anche interessante che c'è un poliziotto che si infiltrerà nel gioco per smascherare chi è il responsabile di tutti questi omicidi davvero ragazzi guardatela non ve ne pentirete forse uscirà una seconda stagione non si sa è da vedere da vedere perché ormai escono seconda stagione in tre stagioni di qualsiasi cosa se la cosa va bene la spremono no a quello che mi sono dimenticato di dire è che questo survival game è composto dai giochi per bambini per esempio il primo gioco che incontreremo è un luter stella dove i giocatori ovviamente dovranno cercare di raggiungere l'obiettivo senza farsi beccare dalla persona che conta ottava serie vi consiglio la la prima delle tre forse più belle è the good place una serie che in realtà ho sentito abbastanza parlare bene da amici però sono qui per consigliarvela di cosa parla good place parla di la protagonista eleanor interpretata dalla bellissima christian bell che dopo essere morta in seguito essere caduta per colpa di una pila di garrelli va in paradiso e nel paradiso lei viene presentata come un'altra donna un'altra donna che non è lei nel paradiso si va ci vanno soltanto le persone buone e lei non ha fatto cose buone nella vita anzi era abbastanza meschina e quindi capisce che lei non è la persona che meritava di essere in quel posto e nel paradiso iniziano a succedere le peggio cose perché lei non deve essere lì quindi sta rompendo il paradiso praticamente la prima stagione vi terrà attaccati fino all'ultimo episodio per vedere effettivamente cosa succede se elano riesce a sistemare questa cosa del paradiso e poi verrà stravolto tutto in quattro stagioni fenomenali tra l'altro gli episodi durano 20 minuti quindi anche veloce da guardare the magicians invece è la serie di gran lunga meno conosciuta in questa lista non ne capisco perché è una serie che ha avuto cinque stagioni e su prime quindi nel senso una serie comunque è andata parecchio non è stata interrotta subito no non è stata interrotta è conclusa bene è bellissima però nessuno nessuno ne ha mai parlato non conosco nessuno se cercate su youtube video recensioni ne trovate due tre forse e di canali piccoli quindi mi chiedo com'è possibile che questa serie non è mai stata vista forse fa cagare o gusti di merda può essere ma intanto parliamo di cos'è questa serie the magician è tratta da romanzo di romanzo tre romanzi di lev grossman intitolato il mago in italia è il terzo libro credo non sia mai arrivato e si può definire una versione adulta e americana di harry potter infatti la serie parla di quentin cold water un ragazzo solitario che si ritroverà insieme alla sua migliore amica e cotta giulia a prendere a parte a questo college di magia quindi si nary potter party che sei un bambino delle elementari e finisci che sei un bambino delle superiori più o meno qua siamo già a college sono più grandi sono più adulti i ragazzi problema è che lui riesce a passare il test ed entrare nella scuola di magia e la sua migliore amica fallisce e quindi inizia a diventare una strega eretica presto quentin scoprirà l'esistenza di fillory ovvero il narnia di questa storia un mondo parallelo che lui amava fin da bambino perché è in dei romanzi che esistono in quel mondo ma in realtà esiste davvero questo mondo parallelo e da questo mondo arriva tutta la magia che è presente nella terra ogni ragazzo in questa scuola un tipo di magia diverso non aspettatevi quello con la magia del fuoco quello con l'aria quello con l'acqua le magie sono molto molto specifiche per esempio un protagonista quentin può riparare piccoli oggetti è una cosa inutile sì oppure la presto cotta di di quentin ovvero ellis può manipolare la luce esperta in fosformanzia come viene definita nella storia tutto questo si cela un nemico scuro presentato fin dalla prima puntata e viene chiamato il mostro il suo aspetto è celato dalle tale falene come mostrato in questa immagine e questo mostro sta cercando di eliminare tutta la magia di fillory e quindi creare problemi sulla terra in cui viviamo noi è una serie ricca di colpi di scena e di misteri è un po un po investigativa anche per capire chi è questo mostro terminiamo in grande con la serie sicuramente più famosa in questa lista ma davvero come ho detto all'inizio davvero poche volte ne ho sentito parlare parliamo di black sales black sales comunabile a un vikings che è ambientato da periodo non reno dei vichinghi al game of thrones che è un periodo medievale black sales è la stessa tipologia di serie con i pirati ma secondo me è molto molto più bella sia di viking che di game of thrones al di là di come è finito game of thrones l'ultima stagione il libro sono un'altra cosa parlo solo della serie ok black sales parla dei pirati più precisamente fa da prequel all'isola del tesoro famosissimo romanzo e segue le vicende del capitano flint capitano molto freddo che nasconde un passato oscuro e verrà accompagnato dai famosi billy bones o john silver presenti anch'essi nel fumetto nel libro anzi tutto parte con la scoperta di questo galleone spagnolo l'urca de lima che trasporta una quantità assurda d'oro e quindi flint insieme ad altri pirati famosi come john rackham conosciuto come calico jack l'inventore del jolly roger e en bonney charles vain che fan parte della stessa nave comunque questi qua sono pirati davvero esistiti e li conosciamo anche grazie a one piece cioè perlomeno bonnie calico jack ecco dovranno affondare questa nave questa nave spagnola e ottenere questo denaro per arricchire l'isola dei pirati ovvero nassau che è la capitale della repubblica dei pirati delle bahamas questa serie segue tutte le vicende storiche quindi come l'arrivo di buzz roger il primo governatore di nassau fino alla fine dell'era dei pirati avremo personaggi storici come edward teach barba nera e personaggi inventati apposta per la serie o personaggi altri personaggi tratti dal libro dell'iso del tesoro come se siete amanti di one piece seguendo questo canale quasi sicuramente sì non potete non vedere questa serie ci sono degli sconti navali bellissimi un po non un po non piacevi sono persone iniziate siamo arrivati alla conclusione di questo video fatemi sapere nei commenti se inizierete qualcuna delle serie da me nominata o se le avete iniziate le avete droppate se le avete già viste eventualmente consigliatemi altre serie che secondo voi potrebbero interessarmi visti i miei gusti dalle serie precedenti quindi mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi per me ci vediamo anche su twitch dato che io stiamo su twitch ma nel mentre divertitevi